scopri la collezione scuola let's go ed inizia una nuova avventura per volare sulle ali di un turbo zaini con tasca sdoppiabile per tanto spazio in più schienale che ammortizza fondo salva libri astucci diari per i tuoi giorni vissuti col turbo con ricky kiko e i fantastici zaini let's go vincerai ogni giorno le sfide più difficili collezione scuola let's go da s&j prossimamente sulle tue spalle